Benvenuti, ci ritroviamo per approfondire il discorso che abbiamo iniziato con le lezioni sulla contabilità industriale. Dopo aver calcolato i costi dell'impresa e averli imputati ai singoli prodotti, c'è una fase nell'impresa importantissima che riguarda invece la programmazione, cioè riguarda le previsioni che l'impresa fa sui profitti futuri che dovrà ottenere una volta che vende il prodotto, l'insieme dei beni e servizi prodotti sul mercato. Dopodiché ci sarà anche una fase importante di controllo che le previsioni rispetto al consuntivo siano state sufficientemente adeguate. Quello che quindi noi affronteremo in queste lezioni sarà sostanzialmente, come vedete, tre argomenti importanti. Innanzitutto cercheremo di introdurre le tecniche di programmazione, far capire, programmare cosa significa e anche quali tecniche sono idonee per fare programmazione di breve periodo e per fare programmazione di lungo periodo. Quindi previsioni per un arco temporale limitato e previsioni per un lungo periodo dell'impresa. Le previsioni a breve termine fanno parte, direi, di quella area che viene definita programmazione operativa. Abbiamo detto che dopo le previsioni e la programmazione c'è il momento del controllo, cioè della verifica che le previsioni si siano attuate oppure della rilevazione dei motivi dell'errore che si è commesso. E questa è la fase che riguarda il controllo di gestione. E allora incominciamo proprio con un'introduzione sulle tecniche. Allora, le tecniche di programmazione, come vedete, hanno un'ipotesi fondamentale, sottostante. Si rifanno a tecniche lineari, cioè a coefficienti fissi di produzione. Se vi ricordate dal corso di economia 1, avevamo capito come le tecniche lineari siano più consone a descrivere la produzione nell'impresa. Nonostante gli economistici suggeriscano invece tecniche di produzione con coefficienti flessibili. E in quella sede avevamo cercato di capire i fondamenti per cui effettivamente nella prassi si utilizza come ipotesi le tecniche lineari. E lo vedremo poi nella costruzione di alcuni diagrammi che vi proporrò per effettuare previsioni. Continuiamo quindi. La prima cosa rilevante per effettuare programmazione è quella di fissare gli obiettivi. Potranno essere di massimo profitto, ad esempio, Max Pigrego. Oppure potrebbe essere di conseguire una grande quota di mercato, ad esempio massimizzare il fatturato. Vi sono modelli oggi prevalenti in economia che sottolineano l'ipotesi di massimizzazione del profitto. Ma nella realtà ci sono anche tante imprese che curano in modo particolare la massimizzazione del fatturato, cioè di mantenere anche a scapito di non realizzare profitti massimi, ma di mantenere una quota di mercato rilevante. Ovviamente è subordinata al raggiungimento, al conseguimento, vedete, sub Pi greco zero, cioè di un profitto soddisfacente al di sotto del quale l'impresa non è disposta ovviamente a massimizzare il fatturato. Questi sono gli obiettivi dell'impresa. Una volta che sono fissati gli obiettivi si può pianificare la produzione, cioè l'impresa decide quanto deve produrre. Come prende queste decisioni? Innanzitutto facendo delle previsioni sulla domanda. Vedete, vengono previste le vendite e i prezzi dei beni e dei fattori produttivi. Quindi che cosa si fa? Si cerca di stimare la quantità domandata del bene che deve essere prodotto, si cerca di prevedere quelli che sono i prezzi dei singoli beni prodotti e i prezzi dei fattori produttivi, lavoro, materie e così via, capitale, che deve essere utilizzato nel processo produttivo. Con che tecniche? Qui ne abbiamo suggerite tre. Alcune, tecniche sono più elementari, ad esempio le tecniche estrapolative. Che cosa vuole dire? In base ai dati passati della domanda di mercato dei singoli beni e servizi, si cerca di interpolare, di prevedere l'evoluzione di questa domanda nel futuro. Direi che è un modo meccanicistico, quasi la domanda avesse uno sviluppo dipendente da una legge naturale, normalmente si utilizza una curva logistica, ad esempio per fare queste previsioni, ma non c'è alcuna spiegazione sottostante in previsioni di questo genere. Quindi cadono un po' dal cielo. Non è detto che si sbagli utilizzando tecniche così semplificate, perché se il mercato è relativamente stabile e viaggia verso una fase di saturazione, la logistica può essere una tecnica, quindi una funzione che viene utilizzata per stimare la domanda, tutto sommato adeguata. Più sofisticate, più intelligenti direi ovviamente, sono le tecniche econometriche che cercano di spiegare la domanda in funzione del prezzo di mercato, di altri fattori, la ricchezza dei consumatori, il reddito, l'inflazione e così via, tutti elementi che possono spiegare l'andamento della domanda del prodotto dell'impresa. Quindi si utilizzano metodologie statistiche per cercare di stimare la domanda e poi immaginare i prezzi dei beni, i prezzi dei beni prodotti dall'impresa, dei beni prodotti dalle altre imprese e della ricchezza dei consumatori per poter stimare, individuare la domanda che compete a quest'impresa che effettua le sue previsioni. Infine vi possono essere invece tecniche di mercato, ad esempio quello di fare dei sondaggi, dei questionari, cercare di capire se un particolare prodotto è in una fase calante, non interessa più al consumatore oppure si sta allargando il mercato di questo prodotto e attraverso questi questionari basati su un campione ridotto di consumatori si può fare una previsione della domanda dell'impresa. Quindi sono tre tecniche che portano alla stima della domanda, si noti una cosa, utilizzando queste tecniche lineari, quello che stiamo suggerendo è che è importante determinare prima la domanda per poi pianificare la produzione, insomma il nostro modello è trainato dalla domanda, la produzione risponde sostanzialmente, viene pianificata in relazione a quello che il mercato chiede all'impresa. Proseguiamo quindi, esistono ovviamente nella pianificazione della produzione anche dei vincoli, l'impresa non è libera di produrre esattamente quello che ad esempio richiederebbe la domanda, bisogna vedere se ha il capitale sufficiente ad esempio per i fattori produttivi, il lavoro, i materiali e così via sufficienti per far fronte a questa domanda, ma sui vincoli torneremo tra breve. Continuiamo, una volta pianificata la produzione e quindi calcolati se volete i costi e i ricavi inerenti ai singoli beni e servizi, si può effettuare una previsione del conto economico e dello stato patrimoniale dell'impresa. Chiamiamo questa fase, vedete non più pianificazione della produzione, ma programmazione, quindi la stesura dei costi, dei ricavi e dei profitti dell'impresa e la costruzione dello stock di capitale sia dal lato dell'impiego che del finanziamento dell'impresa, quindi conto economico e stato patrimoniale. Con tutti questi elementi è finalmente possibile calcolare il risultato economico atteso, quindi la programmazione serve appunto alla fine per determinare il profitto d'impresa. Ovviamente un profitto, stiamo in fase di previsione, è un profitto che noi ci attendiamo. Ecco, potremmo scoprire che da questo processo noi conseguiamo una ipotesi, una previsione di profitto molto alta. Noi potremmo dire che se fossimo veramente soggetti razionali che riescono a vedere il futuro dovremmo fermarci a questo punto, avremmo raggiunto la misura del profitto atteso e ci fermeremmo, valuteremmo se merita continuare a produrre in questo mercato oppure gradualmente abbandonarlo, oppure questo potrebbe richiedere un'espansione. Ma proprio perché non siamo soggetti così sicuri del futuro, il futuro è incerto, quindi le aspettative sono qualcosa che fanno anche molto riferimento all'idea, alla percezione di quello che noi riteniamo sia il profitto normale e conseguibile in un determinato momento, potremmo meravigliarci di aver trovato utilizzando tutte quelle tecniche un profitto troppo alto, una previsione ottimistica. Che cosa fa normalmente il management? Ridiscute tutto il progetto, tutto il programma, la pianificazione della produzione, la programmazione eccetera. Vedete che abbiamo indicato con una freccia laterale tratteggiata il fatto che una volta scoperto quello che è il risultato economico atteso, questo può indurre il management a rivedere le previsioni. Tutto sommato era troppo alto, forse stiamo esagerando, il profitto è troppo alto, andiamo a ritoccare le previsioni e siamo più prudenti, trovando poi alla fine rifaremo tutto il processo che vi ho indicato in precedenza e troveremo un risultato economico tutto sommato più ragionevole, soddisfacente e tutto sommato non troppo ottimistico. Ma potrebbe succedere l'inverso, da quel processo scaturisce un profitto troppo basso, addirittura una perdita, il management si interroga se c'è qualcosa da fare per migliorare i risultati. Quindi si riprogetta tutta la programmazione, si cerca di trovare una via alternativa, di fare risparmi su certi fronti, di stimolare di più la domanda, di trovare qualche meccanismo per migliorare i risultati. In questo caso vedete quella freccia ripropone questo processo, il processo potrebbe essere anche fatto in step successivi, ogni volta si trova il risultato e poi si va a correggere, finino a che il management ritiene che il programma che è stato improntato, che è stato predisposto, bene, il programma viene definitivamente accettato. Si fanno quindi le previsioni e a questo punto sarà il mercato a dare la risposta sulla bontà di quelle previsioni. Vi ricordo che ci eravamo soffermati sui vincoli dicendo analizzeremo meglio questo aspetto ed è proprio questo il momento di analizzare i vincoli. I vincoli sono dati essenzialmente dalla funzione della produzione, cioè come si produce nell'impresa, che tecnologia utilizza l'impresa, una tecnologia labor intensive, capital intensive, con caratteristiche particolari, sono produzioni discrete, continue, queste portano ovviamente dei vincoli inerenti proprio al modo di produrre dell'impresa. E poi ancora l'altro elemento importante che dà un vincolo alla pianificazione della produzione è la capacità produttiva dell'impresa. L'impresa può produrre quell'insieme di beni e servizi fino a una certa quantità, quella che l'insieme di lavoro e capitale riescono effettivamente a realizzare e il volume massimo di produzione che l'impresa è in grado di implementare. La capacità produttiva ovviamente è un dato nel breve periodo, nel senso che, vi ricordo la definizione di breve periodo, nel breve periodo è dato lo stock di capitale, l'impresa non è in grado ancora di implementare nuovi investimenti e quindi la capacità produttiva con cui deve lavorare, con cui deve produrre è limitata. Nel lungo periodo invece possiamo considerare che la capacità produttiva sia variabile. Allora vediamo, nel breve periodo, vedete, è proprio il campo della pianificazione operativa, l'argomento centrale della lezione di oggi. Vedete, essendo vincolata dalla capacità produttiva, l'impresa può fare le sue previsioni a breve termine, ovviamente, non può pensare a un lungo periodo. La pianificazione operativa individua due momenti particolari della pianificazione, vedete due strumenti. Uno è il break even, cioè una metodologia che cerche di far capire all'impresa i margini che ha di guadagno in relazione alla produzione programmata, attesa e a quello che invece poi si potrebbe scoprire essere la cruda realtà del mercato. L'altro è invece di costruire un insieme di budget, di schemi di previsione che in qualche modo appunto diano la misura del profitto d'impresa. Analizzeremo tutte e queste due tecniche di programmazione che riguardano la pianificazione operativa. Vi dicevo se la capacità produttiva invece è variabile, siamo nel lungo periodo, cioè nel lungo periodo l'impresa può effettuare nuovi investimenti e quindi come tale può variare la sua capacità produttiva. Deciderà di raddoppiare la fabbrica, di costruirne una nuova in un altro luogo, oppure semplicemente di implementare nuovi impianti macchinari nella vecchia fabbrica per aumentare gradualmente la produzione, ma insomma nel lungo periodo questo è fattibile. E allora cambia lo scenario, la pianificazione operativa diventa invece pianificazione strategica, cioè a dire una pianificazione che guarda lontano nel lungo periodo. E qui i problemi che si pongono sono problemi relativi a come valutare gli investimenti che vengono effettuati. Conviene o non conviene espandere il capitale dell'impresa? E allora esistono dei metodi, vedete qui vengono citati due, VAN e TIR, cioè il valore attuale netto e il tasso interno di rendimento che possono dare un aiuto al management per decidere se fare o non fare l'investimento, però ve ne sono altri, le simulazioni, vedete altri metodi che possono essere utilizzati per fare pianificazione strategica e questo verrà affrontato in una lezione successiva. Allora torniamo all'argomento centrale, cioè la pianificazione operativa. Vi ricordo di due metodi importanti che vengono utilizzati nella pianificazione a breve termine sono il break even e il budget. Allora cominceremo appunto dal break even. Ci soffermiamo un momento sul concetto, break even vuole dire punto di rottura, quindi è il punto in sostanza in cui l'impresa non realizza profitti, cioè qual è la produzione minima che l'impresa deve realizzare almeno per coprire i costi, poi da lì in poi, dato che le tecniche sono lineari, l'impresa realizzerà dei profitti, diventa direi un momento cruciale individuare la produzione al di sotto della quale ci sarebbero le perdite e quindi è un momento rilevante quello appunto di identificare lo spartiacque fra perdite e profitti. Vediamolo insieme, ve lo propongo come un insieme di elementi che stanno al di sotto di questa tecnica per poterne valutare la rilevanza. Allora, innanzitutto vedete è valida per un primo orientamento, vuole dire che insomma sono dei calcoli relativamente approssimati, ma dato che quello che importa al management non è evidentemente essere precisissimi in questo campo, l'incertezza sul futuro domina tutte le scelte, ma avere un'idea in qualche modo del fatto di essere in una zona tranquilla o in una zona invece di mare agitato in cui possono emergere le perdite per l'impresa. Ma per un primo orientamento questa tecnica è una tecnica consigliabile, è una tecnica che vi ho detto lineare perché poggia appunto sui coefficienti fissi di produzione ed è un'analisi statica, siamo nel breve periodo, non è un'analisi dinamica, non varia la produzione a seguito di variazione della capacità produttiva, siamo dentro alla capacità produttiva esistente dell'impresa. Poi l'ipotesi importante al di sotto di questa tecnica è che l'impresa sia monoprodotto, ora sembra un'ipotesi estremamente limitativa, ma potremmo immaginare che l'impresa abbia anche più di un prodotto, quindi abbia una serie di prodotti e servizi che realizza, ma poi trattiamo tutto il fatturato come se fosse un monoprodotto e ipotizziamo che variazioni del fatturato siano dovute a variazioni proporzionali di tutti i beni e servizi, cioè non muta la composizione dei beni e servizi, allora il metodo può essere applicato anche a un'impresa multiprodotto. Infine facciamo una semplificazione, non merita questo approccio orientativo, non merita una fine differenza fra le vendite e la produzione destinata al magazzino, immaginiamo che tutta la produzione realizzata dall'impresa sia poi venduta sul mercato, che quindi non ci sia variazione del magazzino, quindi o il magazzino è nullo, pensiamo che l'impresa produca direttamente per il mercato, oppure manteniamo il magazzino a livello di quantità costante. Bene, con queste premesse il break even point, il punto di rottura per l'impresa è quella in cui il profitto è nullo. Attenzione, se vi ricordate le lezioni di Economia 1, questa affermazione è diversa per gli aziendalisti e per gli economisti. Quando diciamo che il profitto è nullo, l'aziendalista interpreta che i ricavi, il prezzo unitario copre il costo pieno contabile, mentre l'economista suggerisce che si ha profitto nullo quando il prezzo, il ricavo unitario, copre il costo pieno economico. Vi ricordo la differenza, il costo pieno contabile non contempla i costi figurativi, il costo pieno economico invece li utilizza come determinazione appunto del costo del prodotto. Tipicamente che cos'è? Immaginate, se il capitale viene acquisito, è stato acquisito con debiti finanziari su cui si pagano interessi passivi, il contabile, l'aziendalista li misura nei costi e l'economista ovviamente li considera. Ma se il capitale è stato comprato in parte o tutto con mezzi dei soci, quello per l'aziendalista è capitale finanziato con mezzi propri e quindi il profitto sarà la remunerazione, profitto nulla significa nessuna remunerazione al capitale concesso dai soci. L'economista invece ritiene che bisogna nel calcolo del break even considerare invece un costo opportunità, cioè un rendimento minimo, adeguato, accettabile per il capitale fornito dai soci e quindi in questo caso bisogna imputare un costo ulteriore che rappresenta il profitto minimo al di sotto del quale gli azionisti non avrebbero finanziato l'impresa. Quindi vi ricordo questa distinzione, ma adesso prescindendo da questa vediamo la tecnica come può essere utilizzata. Vedete abbiamo scritto la relazione che il profitto è rappresentato dalla differenza fra ricavi e costi, notate come abbiamo scritto la relazione, abbiamo scritto che il prezzo unitario di vendita meno il costo unitario variabile, in questa semplificazione possiamo immaginare che il costo unitario variabile sia rappresentato dal costo diretto unitario, quindi se noi facciamo la differenza fra prezzo e costo unitario che cosa abbiamo? Vedete, poi moltiplicato per le quantità prodotte abbiamo nell'insieme un margine unitario di contribuzione di primo livello, dal prezzo abbiamo tolto i costi diretti che in questa semplificazione abbiamo considerato corrispondenti ai costi variabili, abbiamo indicato questa differenza P-C come Mercap M, quindi sappiamo che in contabilità industriale questo viene chiamato appunto margine di contribuzione di primo livello, unitario perché si riferisce a un'unità di prodotto, viene moltiplicato per tutte le quantità e quindi otteniamo il margine di contribuzione complessivo. A questo cosa dobbiamo togliere? Dobbiamo togliere i costi che non abbiamo considerato variabili, cioè i costi fissi, se togliamo tutti gli altri costi che appunto non essendo variabili sono fissi, in questa nostra semplificazione potremmo dire che sono i costi indiretti che devono essere poi imputati i singoli prodotti, quindi togliamo tutti i costi indiretti, ebbene questa differenza deve essere uguale a zero, quando è uguale a zero, lì possiamo determinare la quantità minima al di sotto della quale l'impresa non deve andare, non deve produrre di meno perché solo con quella produzione realizzerà un profitto nullo, se produce di più otterrà utili, ma se produce di meno otterrà perdite. Allora vediamo insieme, possiamo calcolare questa quantità, vedete abbiamo chiamata QBEP per dire è la quantità che rappresenta il break even point, vedete il rapporto, facendo le sostituzioni, è il rapporto fra costi fissi e margine unitario di contribuzione o mark up e allora possiamo subito constatare un aspetto, vedete quando i costi fissi sono molto alti, per recuperarli occorrono delle grandi quantità prodotte per raggiungere almeno il profitto nullo, quindi il break even si ottiene con grandi quantità prodotte, quando i costi fissi ovviamente sono bassi, invece le quantità prodotte possono essere basse e si ottiene lo stesso una copertura di tutti i costi con i ricavi conseguiti. Ancora vedete quando ci sono alti mark up, alti margini di contribuzione di primo livello, ebbene allora questo è un dato rassicurante, possiamo produrre anche una quantità relativamente modesta, cioè una quantità di break even point bassa, perché si possano coprire tutti i costi fissi, quindi dipende sostanzialmente dall'entità dei costi fissi che l'impresa deve sostenere e dal margine di contribuzione, quella differenza fra prezzo e costi diretti che l'impresa in sostanza ottiene su ogni prodotto. E allora rappresentiamo graficamente il problema che dobbiamo esaminare, vedete abbiamo proposto su un grafico, sulle ascisse abbiamo scritto le quantità, sulle ordinate abbiamo messo i ricavi e i costi totali e adesso disegniamo la retta, vi ricordo che tutte le funzioni che noi qui rappresentiamo sono lineari e quindi sia i ricavi che i costi verranno rappresentati da rette, vediamo perché. Allora, rappresentiamo la retta dei ricavi, vedete qui abbiamo scritto l'equazione, il ricavo è il prezzo per la quantità, per poter rappresentare la relazione del ricavo come una retta ebbene abbiamo dovuto immaginare che il prezzo del prodotto sia una costante e vedete la tangente di alfa è proprio il prezzo di vendita del prodotto, dico prezzo di vendita perché vi ricordo che abbiamo assimilato produzione alle vendite, non c'è variazione di magazzino. Adesso sovrapponiamo a questa relazione che rappresenta i ricavi una relazione di costo. Ebbene vedete la linea blu che è etichettata con il termine 1, vedete sono i costi fissi della prima tecnica, i c con 1 sta per costi totali e c per q sta per costi variabili, cioè il costo unitario variabile moltiplicato, vedete, per le quantità, quindi questa è la funzione di costo, il costo totale è dato dai costi fissi più i costi variabili e i costi variabili non sono nient'altro che il costo fisso unitario per le quantità. Ebbene questa è ovviamente una retta con intercetta cf1 e con pendenza pari a c piccolo, cioè il costo unitario. E infatti vedete c piccolo, il costo unitario, se volete il costo diretto unitario o costo variabile unitario è dato dalla tangente beta1. Notate una caratteristica, abbiamo messo il costo fisso molto alto, quindi l'intersezione sulle ordinate è in un punto molto alto e beta1 che è il costo variabile, cioè la tangente di beta1 è il costo variabile, l'abbiamo fatta invece molto poco rilevante. Bene, questa, vedete, consente di ottenere il BEP, il break è il costo totali. Quando il costo totale incontra la retta dei ricavi, lì i costi sono uguali ai ricavi, quindi il profitto è nullo, è proprio il break even che noi andavamo a ricercare. E possiamo quindi determinare sull'asse delle ascisse, vedete, QBEP1, cioè la quantità di break even della tecnica 1. Vedete come abbiamo catalogato la tecnologia 1, l'abbiamo ritenuta capital intensive, perché c'è un alto CF1, quindi alti costi fissi, immaginate tutti i costi fissi connessi al capitale, quindi i costi dell'ammortamento e degli oneri finanziari per appunto finanziare il capitale e poi un basso beta1, cioè il fatto che ci siano pochi costi del lavoro e dei materiali, se volete, quindi questa incidenza di costi diretti molto piccola segnala che la nostra impresa è intensiva di capitale. Ebbene, che cosa abbiamo scoperto? Che un'impresa intensiva di capitale ha un'alta QBEP, cioè un alto livello di quantità per garantire la copertura dei costi fissi. Quindi bisogna produrre molto quando la tecnologia è caratterizzata da costi fissi molto elevati. Allora adesso sovrapponiamo a questa tecnologia un'altra retta che rappresenta invece una tecnologia opposta, questa era capital intensive, metteremo una tecnologia capital saving, cioè risparmiatrice di capitale e invece intensiva di lavoro. Rappresentiamo la seconda funzione, lo vedete, l'abbiamo rappresentata con una retta verde questa volta, l'abbiamo etichettata con due per dire che questa è la seconda tecnologia, vedete come l'abbiamo costruita, abbiamo messo piccoli costi fissi e invece rilevanti costi variabili, cioè la pendenza della curva, vedete, è notevole rispetto alla precedente. Ebbene, questa ha una caratteristica, lo vedete? Quindi se la tecnologia è labor intensive, le quantità di break even sono nettamente inferiore a quella di una tecnologia intensiva di capitale. quindi vedete la tecnologia 2 labor intensive ha bassi costi fissi e alti costi variabili, un alto beta 2 e quindi un basso QBEP, una bassa quantità di break even per recuperare i costi fissi. Quindi in sostanza le due tecnologie si presentano molto diverse all'impresa. Perché abbiamo voluto fare questo esercizio? Proprio per rappresentare questa tecnica di break even con due imprese caratterizzate, la prima da alta intensità di capitale e la seconda da alta intensità di lavoro. Per vedere quali sono le caratteristiche, immaginate che queste due imprese che hanno queste due tecnologie diverse operano tutte e due nello stesso mercato. Vediamo che cosa può scaturire di rilevante in questa analisi. Allora torniamo al nostro grafico, vedete abbiamo aggiunto adesso QE. Che cos'è sull'asse delle ascisse QE? È la produzione attesa, cioè immaginiamo che queste imprese, ciascuna caratterizzata da una diversa tecnologia, abbiano tutte e due la previsione di una certa quantità QE che devono realizzare perché pensano che la domanda sul mercato sia adeguata a realizzare quella produzione. Ebbene, avete visto che si è evidenziata una zona blu, un'area blu che rappresenta l'area dei profitti. Vedete che inizia nel punto di QBEP1, ecco cioè nel punto BEP1, vedete, e rappresenta la distanza dei ricavi dai costi totali. Ricavi totali meno costo totale, vedete, evidenziano, indicano, circoscrivono quell'area. Quella è l'area dei profitti perché in BEP1 il profitto è nullo, è evidente che dopo si rileva appunto una maggiore entità dei ricavi rispetto ai costi. Facciamo adesso la stessa cosa per quello che riguarda la seconda tecnica. Vedete, nella seconda tecnica invece abbiamo evidenziato da BEP2, dal punto di rottura, cioè dal punto in cui i costi sono uguali ai ricavi, fino a realizzare la quantità QE, vedete, questa zona verde invece rappresenta i profitti di chi utilizza, di quell'impresa che utilizza la tecnologia intensiva di lavoro. Adesso guardate, facciamo una sovrapposizione delle aree in modo tale, vedete, che si veda che c'è un'area comune, quella grigia, scura, e poi un'area che invece indica l'esistenza di un profitto, quella zona verde, se si utilizza la tecnica intensiva di lavoro, la tecnica 2, e un'area invece blu, vedete, che emerge rilevante solo al di là di un certo livello e si verifica quando si utilizza la tecnologia 1 intensiva di capitale. E allora guardate, c'è un punto in cui i costi, vedete il punto H, in cui i costi delle due tecnologie sono uguali, è evidente che se si produce la quantità QH, perché il punto appunto di eguaglianza fra C1 e C2 è il punto H, ebbene in quel punto non solo i costi saranno uguali, dato che i ricavi non sono mutati, sono rappresentati da quella retta, saranno anche uguali i profitti, quindi abbiamo scritto che in H costi e profitti sono uguali. E notate, se si producesse meno di QH, è più conveniente la tecnologia 2, quella intensiva di lavoro, mentre se si produce una quantità superiore a QH fino a QE, è più vantaggiosa la tecnologia intensiva di capitale. Quindi immaginiamo queste due imprese che si presentano sul mercato, tutte e due prevedono QE, e chi si trova ovviamente meglio è l'impresa intensiva di capitale, poi però il mercato potrebbe portare a un'amara sorpresa che non si riesce a raggiungere una quantità di vendite pari a QE e che quindi le quantità sono nettamente inferiore e quel valore QH fa da spartiacque. Se si produce meno di QH perché la domanda in quel momento è in recessione, la tecnologia 2 è in sostanza valorizzata, l'impresa che ha quella tecnologia farà ancora dei profitti, mentre ahimè l'impresa che invece usa tecniche intensive di capitale farà profitti ben inferiori, molto più piccoli. Se addirittura crollasse la produzione al di sotto di QBEP 1, ecco che addirittura l'impresa tecnologicamente potremmo dire più avanzata, quella che ha investito di più in impianti e macchinari, realizzerebbe delle perdite, mentre l'impresa che investe in tecnologie intensive di lavoro realizza ancora profitti. vi suggerisco a questo punto di fare un esercizio, l'esercizio 8.1 del solito libro che vi avevo suggerito in bibliografia a proposito della contabilità industriale. A questo punto direi semplicemente cerchiamo di vedere due modi di calcolare un aspetto di rischiosità dell'impresa con due parametri, il primo che vi suggerisco vedete è l'effetto leva o rischio operativo, è misurato dall'elasticità del profitto rispetto alle quantità, il profitto vi ricordo è sempre M per Q meno CF e quindi questo leverage operativo LO non è nient'altro che il rapporto fra la variazione percentuale del profitto e la variazione percentuale delle quantità. Più è elevato questo rapporto vuol dire che più è sensibile il profitto alle variazioni delle quantità, è un'area molto rischiosa questa, più è elevato il leverage operativo più piccole variazioni delle quantità comportano grandi oscillazioni del profitto e quindi sostanzialmente è un'area di pericolo per l'impresa. Notate abbiamo fatto i singoli passaggi, la derivata è uguale a M, dP greco su dQ è uguale a M per Q, vedete al denominatore abbiamo invece lasciato il profitto, M per Q è il margine di primo livello, M per Q meno i costi fissi è rappresentato dal profitto, quindi il leverage operativo si può misurare come rapporto fra margine di contribuzione di primo livello e profitto. Bene, se facciamo la derivata parziale del leverage operativo rispetto ai costi fissi, questa è positiva e ci segnala che più alti sono i costi fissi, più alto è il rischio dell'impresa. Ultimo, vi dico il margine di sicurezza, invece la percentuale di vendite previste che anche se non realizzata non comporta perdite per l'impresa. Come si può calcolare? Vedete il margine di sicurezza, si calcola il ricavo in corrispondenza di QE, si toglie il ricavo P per QBEP, cioè il ricavo in corrispondenza del brecchive e lo si rapporta a PQE. Bene, se questo rapporto è sufficientemente alto garantisce l'impresa di avere un margine di sicurezza. importante. L'analisi del brecchive può essere utilizzata in contesti più ampi, ne vedete le possibilità, alle spalle in contesti differenti vedete si può utilizzare questa analisi. Per vedere meglio questi aspetti vi mando all'esercizio 8.2 del libro. Bene, arrivederci alla prossima puntata su questo argomento.